Oggi preparo pollo in padella in salsa barbecue. Per questa ricetta ho utilizzato cosce e sovracosci di pollo. Prendete il pollo, lavatelo, asciugatelo, poi passatelo nella farina. In una padella antiaderente mettete un po' d'olio e fate rosolare il pollo per circa 5 minuti. Giratelo, fatelo rosolare in tutte le parti. Una volta rosolato aggiungete il miele, rosolatelo ancora, fatelo girare in tutte le parti e poi aggiungete ancora la salsa barbecue, salsa di soia e un po' di sale. Fatelo rosolare ancora circa 10 minuti e poi sfumate con il vino bianco e aggiungete anche un po' d'acqua. Ora coprite, dovrà cuocere per circa 30 minuti. A metà cottura lo dovete girare e rigirare. Una volta che sono passati 30 minuti, lasciatelo rosolare ancora 10 minuti. Allora, il pollo adesso è tenerissimo e succosissimo. Ora proviamo a vedere com'è all'interno.